Il bambino è una persona che deve essere amata, cresciuta e che la natura vuole che nasca dall'unione di un uomo con una donna. Proprio questi sentimenti, questi valori, questi principi vogliamo che siano gridati a voce alta, in maniera che arrivino alle orecchie del Premier e alle orecchie dei parlamentari. L'85% della popolazione italiana non vuole le adozioni gay, non vuole la stepchild, non vuole l'affido rafforzato, adesso salta fuori il biennio preadottivo. Sono tutti e dei dieci tentativi di far passare una abominevole condizione per la quale il bambino viene comprato e il suo diritto ad avere un papà e una mamma viene totalmente oscurato. Nel disegno di legge Cirena ci sono numerosi passaggi che di fatto determinano l'omologazione dell'unione civile al matrimonio, che un'unione civile tra persone di pari sesso non è neanche lontanamente assimilabile e omologabile al matrimonio. Noi siamo contrari in toto al disegno di legge Cirena. Noi siamo contrari in toto al disegno di legge Cirena. Noi siamo contrari in toto al disegno di legge Cirena. Noi siamo contrari in toto al disegno di legge Cirena. Grazie a tutti. Grazie a tutti.